Credi Crea, episodio numero 4 Ciao e benvenuti a questo episodio di Credi Crea. Mi chiamo Michela Mitrani e questo è il podcast che vi aiuta a produrre, pubblicare e pubblicizzare in modo indipendente le vostre opere. In questo podcast svelo quali strumenti usare per dare vita al vostro libro e quali risorse rendono più semplice questo processo. Bentornati a Credi Crea, il podcast per scrittori e autori indipendenti. In questo episodio vorrei parlarvi di che cosa non è il self-publishing. Se vi ricordate, l'episodio precedente ho cercato di rispondere alla domanda cos'è il self-publishing, facendo degli esempi, condividendo la mia esperienza e dando alcune definizioni del termine self-publishing o pubblicazione indipendente. Questo episodio si aggancia in qualche modo a quello precedente, ma cerca di rispondere alla domanda in un modo un po' diverso. Sembra strano, ma spiegare che cosa non è il self-publishing è parecchio più difficile di quello che uno potrebbe pensare. Per capire appieno che cosa non è questa cosa chiamata pubblicazione indipendente, infatti, bisogna procedere per esclusione, non per selezione. Ecco quindi i 5 punti da tenere presente quando si cerca di rispondere a questa domanda. Che cosa non è il self-publishing? Il self-publishing non è un processo facile ed immediato. Per fare le cose bene bisogna studiare, provare e fallire per anni prima di cominciare a capire come funziona la pubblicazione indipendente. E il self-publishing, se uno ci pensa come tutti i campi, ad esempio un vocabolario proprio e conoscenze specifiche che non si possono imparare in pochi giorni, ma richiedono diversi mesi se non anni. Provate a pensare alla procedura di creare una copertina, o trovare qualcuno che possa creare una copertina, o come impaginare un libro, o avere un ISBN, o che cosa è un ISBN, avere un codice a barre per il formato paperback o cartaceo del proprio libro, o creare un sito, gestire un canale YouTube, pubblicare un libro su diversi negozi virtuali. Tutte queste cose richiedono del tempo. Io sono circa tre anni che mi definisco un autore indipendente, ma so di non sapere, per citare un famoso filosofo, nel senso ogni singolo giorno mi rendo conto di molte cose che non conosco. Ogni giorno mi rendo conto di come questa materia cambi, si evolva, si adatti alla nuova realtà in cui viviamo. Quindi il self-publishing non è un processo facile ed immediato da capire, bisogna investire del tempo e delle risorse per informarsi, mantenersi costantemente informati. Inoltre il self-publishing non è un modo per diventare il prossimo Stephen King. Che cosa voglio dire con questo? Per chi di voi credesse di poter diventare il prossimo autore best-seller come Stephen King o George Martin solo perché pubblicherà dei libri con il proprio nome scritto sopra, devo sfatare un mito. Non funziona in questo modo. Se sarete davvero molto bravi, dopo qualche anno riuscirete a formare una piattaforma seguita da un gruppo più o meno largo di fan, di persone interessate genuinamente ai vostri prodotti, che saranno di rimbalzo interessate a comprare i vostri libri o a seguirvi, a leggere i vostri blog post o a sentire il vostro podcast. Ma non crediate che sarà un processo facile o immediato, dovrete sudarvi ogni singolo libro venduto, così come dovete costantemente coltivare il rapporto con la vostra fanbase, con i vostri fan, con le persone che seguono il vostro sito internet e che sono interessate a quello che state facendo. Quindi non è un modo per diventare il prossimo autore di successo in modo immediato. C'è sempre quella scaletta che bisogna ricordare si inizia dalla base per poi pian piano cercare di migliorarsi, di produrre un libro, un'opera sempre migliore e cercare di attirare un pubblico sempre maggiore grazie a opere che uno spera siano perfezionate con il tempo, quindi migliori e migliori. Il self-publishing inoltre non è un modo per fare un mucchio di soldi in poco tempo e questo si aggancia al punto di poco prima. Conosco davvero pochi autori indipendenti italiani che al giorno d'oggi campano dalla vendita dei propri libri. Non sto dicendo che sia impossibile, sto solo dicendo che sarà molto difficile e che questo non dovrebbe essere il motivo principale per cui pubblicate indipendentemente le vostre opere. Questo podcast, Credi Crea, nasce proprio per dare la possibilità a un pubblico di creare le proprie opere, ma so, mi rendo conto che la maggior parte di queste persone vogliono semplicemente avere il loro libro in formato cartaceo, magari ebook e condividerlo con familiari o conoscenti. Per le persone comunque interessate a procedere per questa strada e diventare un autore indipendente professionista, bisogna che io stressi questo monto il più possibile. Self-publishing non vuol dire fare un mucchio di soldi in pochissimo tempo e una volta che si ha questa consapevolezza, penso che sia importante salutare, anche aggiungere che prendersi sul serio è importante, specialmente quando uno vuole imbarcarsi in questo tipo di processo e farlo in modo fatto per bene, ma anche avere dei obiettivi raggiungibili. Creare un piano a lungo termine può aiutare proprio a fare questo, quindi con il passare dei mesi e degli anni, la creazione di un piano a lungo termine di quali sono i nostri obiettivi può aiutare a farceli raggiungere nel lungo tempo, ma avere un obiettivo del tipo vendere un milione di copie nel primo mese o i primi due mesi di pubblicazione indipendente è un obiettivo irrealistico e non dovrebbe entrare a far parte del vostro bagaglio di obiettivi. Il self-publishing inoltre non è un modo per fare il ganso e con questo dico che secondo il sottoscritto un autore indipendente dovrebbe sempre cercare di rimanere umile e sempre disposto alle critiche per migliorare. Questo vuol dire anche tenere un basso profilo e non urlare quattro venti che è il vostro e il miglior libro del mondo. C'è una storia che mi interessa proprio da questo punto di vista che interessa il sottoscritto e che è un esempio opposto a questo consiglio che vi sto dando. Mi ricordo che appena uscito il mio primo libro di fantascienza ognologo la prima cosa che feci è trovare un forum di fantascienza italiano e aprire una discussione per pubblicizzare proprio questo mio libro e intitolandola A 27 anni resuscita alla fantascienza italiana. A quel tempo avevo 27 anni e mettendo questo titolo decisamente poco umile ho attirato diverse risposte e attenzione, ovviamente la maggior parte delle quali negative. Ecco questo è un buon esempio sul cosa non fare come autore indipendente. Spero che negli anni sia migliorato da questo punto di vista. Sto cercando di capire, continuare a capire insomma, che cosa, qual è l'etichetta che un autore indipendente deve rispottare, specialmente in un posto come un forum che è appunto un luogo dove diverse persone possono leggerti e che non dovrebbe essere un palcoscenico per una persona sola ma un luogo dove una comunità di persone si scambiano delle idee. Quindi non è il self-publishing un modo per farsi risplendere o far risplendere la propria personalità o per vantarsi. La pubblicazione indipendente non è quella che io chiamo la pubblicazione da rimorchio, ovvero per elaborare meglio su questo tema quando qualcun altro, un editore tra virgolette, ti pubblica il libro per te e tu lo paghi migliaia di euro magari per questo servizio. Ho sentito diverse storie di questo tipo di editori che chiedono una somma importante a persone per pubblicare il proprio libro e queste persone credono di aver pubblicato indipendentemente ma in realtà non è questo che io intendo quando parlo di self-publishing. Per me il self-publishing è quello che in inglesi si chiamano do it yourself, quindi è un processo nel quale tu investi del tempo e le tue risorse, sei tu a gestire il tuo libro dall'inizio alla fine, sei tu a scegliere chi coinvolgere nella sua creazione, sei tu quello che fa le scelte e sei tu quello che si sporca le mani, non delighi altri, li coordini. E questo è un punto molto importante da ricordare, essere un autore indipendente vuol dire fare delle scelte fatte per conto proprio, chiedere aiuto ad altri, ma questo non vuol dire delegare gli altri per compiti come per esempio pubblicizzare il proprio libro o non completamente delegare altri, compiti che interessano lo sviluppo, la correzione, la diffusione, la pubblicizzazione del proprio libro. Questi credo siano alcuni dei punti importanti da ricordare quando si cerca di tenere presente cosa non è il self-publishing, quindi li ripeto, non è un processo facile ed immediato, non è un modo per diventare il prossimo Stephen King, non è un modo per fare un mucchio di soldi in poco tempo, non è un modo per fare il ganso e non è la cosiddetta pubblicazione da rimorchio. Spero che questo episodio di CrediCrea vi sia stato utile. Se lo è stato, aiutatemi a renderlo più facile da trovare, recensandolo su iTunes e condividendolo con amici e conoscenti. Questo è l'unico modo per aumentare la sua visibilità e permettere a sempre più persone di usufruire di questa risorsa. Se volete rimanere costantemente aggiornati su nuovi episodi, su mie blog post o sulle mie pubblicazioni, potete abbonarvi alla mia mailing list su www.credinelatuastoria.com slash iscriviti. Lo ripeto è credinelatuastoria.com slash iscriviti. Bene, vi lascio con un saluto e dandovi appuntamento al prossimo episodio. Fino a quel momento, ricordate, la vostra vita è una storia. Cominciate a raccontarla.